ciao qui riprendi il nostro autodistruttivo viaggio alla ricerca delle sorprese dentro tutto questo cioccolato continua non so in che giorno verrà pubblicato questo video ma so che lo sto girando oggi che è la viciglia di pasqua quindi manca pochissimo abbiamo già aperto un sacco di uovo un po io un po il fratellone e oggi tocca a quella delle micro machines che è un nome che per noi vecchi è piuttosto familiare perché erano nate negli anni 80 prodotte dalla galub queste piccole automobiline e ci piacevano un sacco e per un grande successore poca non sono più prodotte dalla galub naturalmente anche perché la galub non esiste più e vediamo che oltre alla sorpresina all'interno mi chiedo proprio che cosa sarà è possibile vincere il play set quindi la grande corvette city la corvette che diventa una città per le micro machine sempre belle le città per le macchinine allora apriamola questo è un uovo da 180 grammi questa è la misura è già un po slacciato perfetto sarà cioccolato al latte ne sono abbastanza sicuro infatti ha preso qualche botta ha avuto un incidente guardate un po è un uovo scomposto come si usa adesso allora fuori fuori la sorpresina ma senza ancora sbirciare che cos'è mettiamo da parte questo cioccolato con il suo incanto luminoso luminoso insomma riflettente meglio usiamo termini più appropriati la mia mano sembra ingrassata la mia mano è beggio con tutte queste uova allora prima abbiamo questo per il concorso dunque la grande corvette city si apre diventa una città per le micro machine vediamo cosa dice questo foglietto allora per partecipare all'estrazione finale di uno dei super van city micro machines registrati compiando il form e inserisci in apposito spazio il codice univoco al fanumerico che trovi evidenziato qui sotto perfetto valido fino al 30 maggio e stazione finale 15 giugno ok e noi ci proveremo hai visto mai per vincere questo giocattolino abbiamo un nipotino in realtà che ha un po di queste nuove micro machines quindi ogni tanto facciamo lo sforzo di dare di giocattoli anche lui e non tenerli tutti per noi e adesso arriva il momento della sorpresa vera e propria però io speravo speravo che si trattasse di una micro machine una macchinina e invece purtroppo non è una macchinina abbiamo tre gomme con alcune micro machine disegnate sopra allora dobbiamo aprire questo involucro da qui ecco e troviamo tre gomme che sono anche piccine con il copyright hasbro perché direi che hasbro dovrebbe essere la grande compagnia che ha rilevato galub anni fa e che pertanto oggi possiede il marchio micro machines distribuite qui in italia invece da grandi giochi allora questa sembrerebbe una mustang però non sono aggiornatissimo ma per quanto abbiamo visto delle micro machine più recenti di quest'ultimo revival una grossa differenza tra queste quelle prodotte da galub negli anni ottanta e che una volta raffiguravano modellini veri fatte su licenza mentre quelle di oggi sono modellini di fantasia eccole qua tre gomme una singola micro machine sarebbe stata un po meglio come sorpresa vedremo se possiamo rifarci con il concorso fateci sapere cosa ne pensate qui potete mettere mi piace se il video vi è piaciuto cliccando sul bolino blu li prendi invece troverete il nostro canale nello spazietto di ricerca con la lente di ingrandimento cercate il nome del giocattolo che volete rivedere e ne troverete un sacco potete iscrivervi al nostro canale dove troverete tutti i giocattoli che potete immaginare ciao